bene a tutti stertini eccoci ritrovati su minecraft e oggi farò la mia prima sky wars io non so nulla non so neanche come si gioca quindi dario e luna mi dovete dare una mano siamo pronti siamo pronti siamo pronti siamo pronti allora io vi seguo voi mi dite quello che devo fare e io lo faccio oddio che è sto coso ma quello è un muffin cos'è quel coso in giro la ciambella o marona che fa ho già fame dai ma non posso vedere queste cose adesso ok allora cosa che dobbiamo fare a preva in giro prendi le ceste raccogli il loro interno ok quindi per ora cavolo cavolo oggi ho trovato delle ottime cose boncio lascia di ferro un mickey vieni qua che ci sono delle cose buona e l'obiettivo è andare sempre penso al centro andare a prendere il tutto buono ok va benissimo sì ci sta già andando uno dobbiamo andare ragazzi vabbè lasciano andare questo se fai andare dove siete ragazzi sì noi teniamo un occhio questi che vogliono venire sicuramente aia ok a me manca nei piedi e basta però ho detto fammi una spada in diamante per favore ma non ho più frecce dobbiamo capire bene come fare io delle frecce anche ve la mollo thank you arrivano raga arrivano arrivano sono qua o raga raga morto porca di quella vacca mi hanno ammazzato siamo morti si siamo morti nooo porca di quella vacca vabbè dai riproviamoci kit selection si ok ha fatto tank stiamo subito per andare al centro ragazzi vai tu al centro io provo un attimo a prendere dei materiali qua allora ragazzi ti puoi capire bene come fare dobbiamo andare dobbiamo andare dobbiamo pusharli sti pezzi di fan dobbiamo veramente pusharli subito senza dargli tempo sono morto c'era una cosa trappola esplosiva nella nostra base andiamo e pushiamo ma si pushate vai io andiamo andiamo pushate cronaca e se ne vedo pushare quando la gente fa tasca ma mia stortino ma mia quarto pazzo ma è che si puscia con la spada in mano al nemico il nemico non c'è però attualmente il primo nemico è di fronte a mickey mickey attenzione puoi incontrare un nemico a pochi passi da te a sinistra sta adesso andando alla prima alla prima zona ancora non è arrivato lo puoi attendere fatte una bella imboscata questo tizio oggi ho trovato una spada d'oro ii non vale niente roba stanno qua eh stanno qua c'è da di fronte a dei tre tizi di fronte qua ragazzi le persone vi pushano a entrambi i lati ma io non sto capendo che stanno facendo ma sta mettendo una cesta davvero ma che ha fatto davvero sta mettendo una cesta ok nice dietro di voi si ragazzi al centro avete due tizi arriva ma cosa stanno facendo non avete le frecce raga attenzione mickey sotto attacco mickey attaccato da due persone e che battaglia a violenta violenta battaglia di quella vacca è fatta fuori si sono morti entrambi easy bravissimi buono sono un altro dizio ma vedo l'altra parte dalla parte opposta la parte opposta ragazze la parte opposta ragazzi venite mickey tu non hai vita mickey sanno che sei lì sanno che sei lì come guardando male nomini the egger questo è tirare uova ma è che vostro ma è che vostro all'angolino e vabbè matta vita c'hanno però ha mangiato una mela d'oro e vabbè morto ammazzato bravi ecco lì cattivi e cattivi attenzione sono arrivati compagni ok quello è il vostro compagno però l'altro ammazzato aiutato aiutato c'è stata ammazzata fai mickey di più corri di mai 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 i vomichi sta scappando al centro si è caduto in quattro e time 1 manca uno allora allora ragazzi inizia quasi inizia qui venite 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 ma venite ma è uno solo è no poi mancano due anche cosa sta facendo un metodo non tanto consono per fuggire ok tornate al centro vi dico che l'altro tizio sta alla casa a teoricamente a sinistra dai 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 questa qua c'è una cosa ma scusate ne manca uno di ogni team giusta si vediamo qua o nell'albero o sopra beh controllo l'albero questo qua dove state voi occhi aperti raga guardatevi intorno che secondo me lo vedete se tenete l'occhio aperto che sarà nascosto ma neanche troppo raga io sono andato pure sotto 0 mi dà che sono adesso ovunque mi dice ovunque guardato non vabbè abbiamo vinto per se sono arresi praticamente ma sono piccoli siete fatti fuori tutti voi e pretendo sì e ma quando finisce sta partita ma sa mai sai questi due piccoli stanno aspettando che quittate perché così poi gli dà la vittoria c'è capite che come gioca sta gente a youtube dico raga no vabbè tutto però abbiamo vinto noi e abbiamo vinto la matematico è incredibile comunque io questo mi dico che divertimento c'è anzi sono curioso di vedere vi potete buttare entrambi di sotto per vedere cosa fanno dopo perché uno e uno sono nascosti ma dopo che fanno escono fuori voglio sono curioso ci buttiamo se cade o cade giusto ok adesso potete girare anche voi un attimo la mappa e dirmi se li vedete perché io non li vedo eccoli erano insieme guarda lì hanno scritto un cartello we won ma che vergogna ma sono due team differenti si devono far fuori la reputiamo vittoria nostra gg a noi lo rifaremo sperando di riuscire a beccare un team un po decente vabbè ragazzoni io la io veramente la reputo vittoria io lo dico sì sì ma io anche scriveteci sotto nei commenti cosa ne pensate di quei due e di quei due che si sono messi a far questa cosa non è giocare che divertimento c'è vabbè contenti loro contenti tutti ragazzi che dire per questo video si può concludere qui la vittoria ci ha portati a casa che dire io vi ringrazio di aver visto questo video un ringraziamento come sempre a dare l'uno per la compagnia va prego prego ci riproviamo però mi piace voglio riprovarci ce la faremo al prossimo video ciao belli ciao 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.